Cari amici, cari soci, cari collaboratori, cari partner di Diva APS, a tutti i partecipanti del Premio Internazionale 8 milioni 2023. Eh sì, grazie a un consistente contributo economico erogato in favore della nostra associazione Diva APS e dall'amministrazione della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, sì e attraverso il suo ufficio di relazione esterna in accoglimento della nostra richiesta, sì inoltrata con favorevole valutazione dal direttore della filiale 33 di Ischia, il dottor Vincenzo Molino. Eh sì, così siamo in grado di proporre un nuovo incontro con tutti voi, per la consegna delle targhe, degli attestati, quelli riconosciuti ai primi cinque classificati delle quattro sezioni della dodicesima edizione del Premio Internazionale 8 milioni 2023. Grazie ancora alla Banca di Credito Popolare e vi diamo appuntamento per domenica 4 febbraio alle ore 17 qui a Interno 4, via della Lungara 44, sede della Casa della Cultura di Diva APS, saremo tanti, con tante belle performance, quindi ricordatevi di prenotare altri 476781074 e vi aspettiamo, tanti baci da noi e da lì, c'è la favorevole.